Conclusa da pochi giorni la prima importante fase del restauro del cranio del mammutus meridionalis ritrovato la scorsa estate in località Tasso nel comune di Terronova Bracciolini. Adesso è arrivato il momento di trasportare il fossile da San Giovanni Valdarno, in particolare dal capannone della ditta Moretti dove era stato allestito il laboratorio, nella sua sede definitiva il museo paleontologico di Montevarchi. Attualmente sono in corso le complicate operazioni di imballaggio necessarie per effettuare in piena sicurezza il trasporto del fossile. Il prezioso pacco dovrà quindi essere trasportato e fatto entrare direttamente al primo piano del museo. L'arrivo del mammutus scortato dalla polizia municipale è previsto per il prossimo martedì 3 luglio intorno alle 15. Un intervento decisamente importante reso possibile anche grazie al prezioso contributo di centinaia di valdarnesi che con il loro aiuto hanno reso possibile economicamente questa storica impresa.